Benvenuti alla rassegna stampa di giovedì 29 aprile 2021 sul canale 17 di Fano TV c'è Occhi e giornali commento alla stampa del giorno allora partiamo come sempre dal santo e poi il tempo Oggi è Santa Caterina da Siena il sole sorto alle 6.04 e tramonterà alle 20.13 Breve pausa tra una pioggia e l'altra questa mattina sulla regione Marche secondo trebimeteo.com Avremo un po' di nuvolosità altrove ci sarà sole in mattinata con un po' di foschie ma è il pomeriggio che ci regala ancora pioggia Pioggia che ci vuole perché abbiamo bisogno di acqua e l'acqua arriverà sia sulla costa pesarese vedete anconetana Ma anche nel resto della regione non mancherà così anche la sera con schiarite sull'anconetano, fermano, l'ascolipiceno ma il resto ancora avremo qualche pioggia Vediamo velocemente anche domani venerdì Venerdì non c'è molto da dire nel senso che al mattino avremo ancora sole con delle velature così come il pomeriggio ma con un po' di nuvolosità in più E già domani sera sul pesarese vedete ancora un po' di pioggia che tornerà a farci compagnia E sapete che in questo periodo quando parliamo di pioggia io ho detto la pioggia che serve, la pioggia è pensando ovviamente al terreno, ai campi, all'agricoltura Chi invece lavora con i ristoranti, i bar in questo periodo la pioggia è un'altra mazzata perché sapete il governo impone ai locali di servire ai tavoli ma all'esterno Quindi le condizioni meteo sono fondamentali in questo momento per consentire a questi operatori di lavorare E la pioggia non sta certamente aiutando questa categoria già fortemente penalizzata Tant'è che c'è qualcuno che sorride, qualcuno un po' meno ma questa è la vita Allora andiamo a vedere i cinema per esempio, cinema che è un anno che sono chiusi, qualcuno li ha riaperti, stanno riaprendo Non tutti, molti lo faranno ad ottobre ma intanto per esempio il Solaris ha riaperto le sue tre sale a Pesaro e tutte e tre sono state riempite Ovviamente riempite si fa per dire perché mantenendo le distanze di sicurezza Il titolo della fotonotizia di oggi è Si torna a sognare E questa è una foto che insomma dice molto, apparentemente forse così insignificante ma in realtà dice molto La voglia di tornare a fare quello che si faceva un anno fa Guardarsi un film, anche se con la mascherina non so se sia il massimo della vita ma comunque meglio che niente Vaccini, la ripartenza 800 in lista, oggi c'è la riapertura straordinaria a Risto di Pesaro Dopo due giorni di chiusura tocca ai caregiver con dosi Pfizer Mentre si parla di tecnologia in 3D, in tre dimensioni, a ortopedia Anche doppia protesi da record, il paziente il giorno dopo addirittura dopo un'operazione all'anca riesce a camminare E poi c'è questa notizia che riguarda la ristorazione, ristorazione in lutto È morta Eliana, la signora della ginestra di Acqualagna A Valefoglia invece il nuovo portale dedicato ai turisti Valefoglia che vuole intercettare i turisti di Urbino e di Pesaro Sempre sulla questione sanitaria, covid e ristorazione Molti locali per il primo di maggio sono già tutti esauriti Su pranzi e cene, come dicevamo però, incombe il meteo Caos in via Togliati a Pesaro Tra comune e federazione, scontro totale sulla piscina Di taglio basso, da terre roveresche, scritte oscene A scuola, presi tre baby vandali A Ponte Sasso invece festa con grigliata Multati dieci ragazzi Andiamo a vedere il Corriere Adriatico Edizione di Pesaro Estate a scuola Anche no, possibilisti i presidi Ma non sarà facile Maggiori resistenze tra ragazzi e insegnanti Il dirigente del Nolfi dice Confusione di ruoli Non siamo un servizio di babysitting A chiamata Cioè ve lo voglio vedere quanta gente ad agosto Andrà a scuola per recuperare qualche materia Ma comunque, emergono tombe d'epoca romana Invece nel tracciato degli interquartieri Siamo sempre nella zona di Pesaro E poi da cattolica droga, soldi e minacce Da cattolica d'Ancona Stroncata la nuova tratta dello spaccio Con 15 arresti Dicevamo del Solaris Allora, il cinema pieno a Pesaro Tanta voglia di grande schermo Tre sale esaurite Era da fine ottobre che le poltroncine erano deserte Pellicola sorpresa Caro diario Spettatori in arrivo anche dalla Romagna Appena staccato dal lavoro Dice una coppia di Riccione Ci siamo fiondati E rispettiamo anche il coprifuoco Mentre sul pagina del Corriere Sempre relativamente ai cinema Per i film ci sarà l'arena BCC L'arena BCC di Fano Una bella arena all'aperto L'esperimento è già andato a buon fine l'anno scorso Mentre i cinema cittadini a Fano Riapriranno soltanto in autunno La multisala di Bellocchi Che è la più grande E gli impianti del centro storico Rinviano la ripresa dell'attività Al momento dicono Non ci sono le condizioni per riaprire al pubblico Il coprifuoco alle 22 Le capienze ridotte Pochi film a disposizione Perché anche le produzioni di film Non dimentichiamocelo Si sono dovute fermare Perché il Covid non guarda in faccia a nessuno Poco tempo dunque anche per disporre Per predisporre il cinema I nuovi protocolli E tutto questo ha convinto i gestori Giometti l'abbiamo intervistato nel telegiornale l'altra sera Ha convinto i gestori a rinviare questa riapertura ad ottobre Mentre sul Corriere di Fano Massimo Foghetti questa mattina Scrive di un libro che ha scritto Francesco Baldarelli Francesco Baldarelli politico Ha abbandonato a dire il vero l'attività politica e manageriale E si è dato alla narrativa Ha scritto un libro Un libro che riguarda la nevicata del 2012 Quella nevicata storica e memorabile Epocale Che sommerse tutta la regione In particolare la provincia di Piesa Urbino E si intitola questo romanzo La Grande Neve È uno spaccato su questo piccolo paese da presepe Come Cartoceto dove lui vive E qui il racconto di Baldarelli Mischia la storia alla fantasia Catturando il lettore con la suggestione di atmosfere Che ricorda Frusaglia di Fabio Tombari Mentre tornando sul Kerlino Si parla del primo di maggio Tra pochi giorni Primo maggio tra l'altro capita di sabato Quindi sold out Tutto esaurito in molti ristoranti Le prenotazioni però ballano con il meteo Clienti già avvisati Se piove Dicono i ristoratori I posti si annullano Favorito chi ha certamente Deors che sono riparati Questi gazebo Queste strutture all'aperto Aperte lo ricordiamo Così come prevede il decreto Devono essere aperte su tre lati Per essere considerate all'aperto Tavoli ancora liberi Soprattutto per la cena La cena ancora effettivamente è freddo Mentre sui vaccini I vaccini sono agli sgoccioli Purtroppo le dosi stanno finendo Nelle Marche Si attendono i nuovi arrivi Oppure bisognerà un po' rallentare Ieri c'è stata una telefonata Un colloquio tra l'assessore regionale Delle Marche Filippo Saltamartini E il generale Figliuolo Il commissario straordinario E quindi si è parlato Soprattutto di quello slot 60-64 anni Quella fascia di persone Che hanno quest'età Tra i 60 e i 64 anni Che dovrebbe iniziare Dovrebbero iniziare a vaccinare Tutte queste persone Ma in realtà non ci sono i vaccini Quindi probabilmente Non si apre questo slot Finché non arriveranno le forniture Intanto sono sotto controllo I tre comuni Che in questo momento Sono in zona rossa O zona arancione rafforzata Quindi Cerreto Desi Provincia di Ancona Dove la situazione ancora Non è migliorata I contagi sono ancora lì La stessa cosa Vale, dicasi, per Montellabate E per Vallefoglia Vallefoglia è stabile E Montellabate lo stesso C'è un aumento Insomma, la situazione è un po' ferma così Ma quello che preoccupa Faccio un salto Ecco, quello che preoccupa È Fossombrone Fossombrone in questo momento È ancora in zona gialla Però il sindaco Gabriele Bonci Di Fossombrone Ha detto Attenzione Cari concittadini Perché qui la situazione Non è bella A Fossombrone Ci sono degli aumenti Degli aumenti Di contagio E quindi Dice lui Comincio a preoccuparmi Sempre di più Così ha dichiarato Il primo cittadino Di Fossombrone I dati sono in aumento Da questo passo Di questo passo Rischiamo come comune Di diventare zona rossa Con tutte le limitazioni Conseguenti Non rimane Che rivolgere un appello Pressante A tutti quanti Perché usino Le necessarie precauzioni Non esistono Altre possibilità Di difesa C'è tutto l'articolo Di Roberto Urgiungi Questa mattina Sul Corriere Adriatico Appunto Sulla pagina Della Valle del Metauro Dove troverete Appunto Questo Accorato appello Del sindaco Di Fossombrone Alla massima Attenzione Perché Ripeto Ci sono Ci sono Parliamo di numeri Che apparentemente Possono sembrare Anche insignificanti Perché Ci sono Persone Ci sono Un aumento Che va da 84-89 Parliamo di 3-4 persone Insomma 44 positivi Ci sono 89 persone In isolamento 44 positivi E Fossombrone Quindi Non parliamo Di numeri Esagerati Però Questo prevede Il decreto E quindi Per ogni comune Vengono monitorati Anche fossero 3 Ma vengono monitorati Se diventano 5 Si tratta di aumento Se diventano 6 Si tratta di Aumento esponenziale Quindi Bisogna stare Molto attenti E soprattutto Mantenere le distanze Poi c'è un'altra notizia Sempre in questo articolo Che riguarda Sempre Bonci Che ha indetto Un incontro Imminente Con i colleghi D'Isola del Piano Monte Felcino E Sant'Ippolito Per attivare Un centro Di vaccinazione All'ospedale Di comunità In accordo Con i medici Di base Che si sono detti Pronti a prestare La massima collaborazione Quindi Si vorrebbe Preparare Anche lì A Fossombrone Un punto vaccinale Per l'area Che abbiamo Di quei paesi Che abbiamo Che ho appena citato Tornando invece Indietro Ecco qua Nella pagina Del resto del Carino Controordine Oggi Ci si vaccina Il Ristò C'è questa apertura Straordinaria Per 800 Caregiveri Caregiveri Lo abbiamo già detto Sono quelle persone Che si occupano In famiglia Di una persona Malata Una persona disabile Da una persona Che ha bisogno Di essere accudita Che si occupa Di questa persona Gratuitamente Ora Doveva essere chiuso Oggi in realtà Il Ristò Come scrive La Iacomucci Questa mattina Cioè Secondo Il programma Martedì Mercoledì A giovedì Il Ristò Doveva essere chiuso Per scarsità Di dosi E per esaurimento Delle prenotazioni In realtà Poi Siccome la regione Dalla regione È giunta L'assicurazione Di Dell'arrivo Di nuove forniture Vaccinali E allora Si è deciso Di riprendere E oggi Dovrebbero esserci Circa 800 persone Sia a Pesaro Che a Fano Quindi Caregiver Queste persone qua Che dovrebbero Vaccinarsi Oggi è disponibile Però solo Pfizer Ok Ad essere utilizzato Nella seduta In programma Anche perché AstraZeneca E Johnson & Johnson Sono Per i soggetti Con più di 60 anni Tra l'altro Ecco la novità È che Arriverà C'è anche Johnson & Johnson Quello che La monodose Mentre sul fronte Dei morti Dei decessi Altri 4 In provincia Di Pesaro Urbino Scrive Il resto del Carlino Siamo intanto A quota 966 Il lato positivo Che gli ospedali Rispirano Però sempre di più 20 pazienti in meno Rispetto al giorno prima Adesso invece Andiamo sulla pagina Di Acqualagna Del resto del Carlino Per Parlarvi della morte Di Eliana Cancellieri Eliana Cancellieri La signora Della Ginestra Deceduta Nella sua casa Di Pesaro Di via Cesare Battisti A Pesaro Aveva 80 anni Era titolare Insieme a Nico Giacomel Dello storico Ristorante Di Acqualagna L'ex sindaco La ricorda L'ex sindaco Capanna Dice Di lei È stata una donna Forte ed elegante E con lei appunto Il furlo Decollò Il funerale Sarà domani mattina Alle 10.30 Nella chiesa Di Santa Maria Del Porto A Pesaro A terre roveresche Invece Vandali Alle scuole medie Ricorderete Abbiamo fatto vedere Anche noi Nel telegiornale Tutte le immagini Le immagini Di questa struttura Che era stata appena Era ancora in cantiere Con tutte queste scritte Ecco Gli autori Di questo ride A colpi di spray Negli edifici Di Orciano E di Mondavio Sono quattro Giovanissimi Tre dei quali Minorenni E sono stati Tutti individuati Questi Imbrattatori Che il mese scorso All'interno D'edificio Della scuola di secondaria Di primo grado Giacomo Leopardi E in quella di Mondavio Di Orciano Che era chiuso Per lavori Appunto ormai Di ristrutturazione Da tre anni e mezzo Sono stati individuati E Sono stati individuati Dall'arma Dei carabinieri I sindaci Dicono Grazie ai carabinieri Alle famiglie Che hanno proposto Ovviamente Di risarcire Il danno Poi ferì la moglie Con un coltello Un marocchino Patteggia Due anni e quattro mesi Di carcere La donna Si era opposta Al marito Che voleva soldi Per l'affitto Della nuova casa A Fano invece Corriere Adriatico Fondi per 14 Attività economiche Nel centro commerciale Naturale Il centro commerciale Naturale È quello Del centro storico Si parla Di questi esercenti Che aderiscono Ad una cooperativa Il comune Aggiornano La segnaletica Turistica Assegnati Dalla regione 67 mila euro Attraverso un bando Realizzata Una sinergia Tra pubblico E privato Andiamo a vedere Sulla pagina Di Fano Del resto del Carlino Telecamere Panchine Con l'USB L'USB È dove si può Attaccare La chiavetta Comunque Per ricaricare Insomma Anche cellulare E quant'altro Così i passeggi Diventano intelligenti Il vicepresidente Carloni Annuncia L'intesa Con Enel Green Power Che è la proprietaria Del canale Albani Ci saranno anche Pannelli fotovoltaici E reti wireless Intanto Curina L'amico delle Anatre Propone interventi Così Se l'unico posto Che era Il passeggio Era quello Di chiacchierare Di far fare Due parole Eccetera Sperando che Qualche cellulare Si scaricasse Quindi Si potesse mettere Nel Dice ormai Tanto è scarico Facciamo due chiacchiere Invece no Diamo la possibilità Di caricare Il cellulare Pure lì Di navigare Pure lì Così Non ci sarà tempo Tutti a guardare Lo schermo E quel poco di verde Che c'è Ai passeggi Ce lo ricorderemo In altro modo Vabbè Comunque Al momento Ci sono una cinquantina Di volatili Nell'area Nell'area Lì Molti sono morti Per il freddo Che c'è stato in aprile Ora Andiamo invece A vedere L'altra pagina La pagina 15 Del resto del Carlino A piedi o in bicicletta I fanesi preferiscono L'auto Secondo l'Istat Il 68% Si sposta in macchina L'obiettivo Del nuovo piano urbano Della mobilità sostenibile Sarà invertire La tendenza Il documento Affidato A Sintagma Sarà pronto Nel 2022 Come involgerà I cittadini Mentre La cronaca Una grigliata Una grigliata in terrazza Ponte Sasso Siamo a Fano Sono stati multati Dieci ragazzi Successo lo scorso Fine settimana Alcuni partecipanti Avevano anche violato I confini comunali Dunque Avevano pensato In barba In barba Chiaramente Alle vigenti Norme Anti-Covid Di fare una bella Grigliata di carne In un terrazzo Condominiale Tra allegria Eccetera Eccetera Purtroppo Insomma Per loro è andata male Perché qualcuno Ha chiamato i carabinieri E quindi sono scattate le multe Poi ruba un polpo Da 10 euro All'Ocean Gli costerà più del caviale Belunga Quindi un 34enne È stato condannato A 20 giorni di carcere E 200 euro di multa Per furto aggravato La variante di Gimarra Fano strategica Per liberare Fano dal traffico Punto cruciale Della verifica politica L'opera deve integrarsi Con l'alternativa Alla statale sud Per realizzare il percorso Con le gallerie Possibile ricorso All'autofinanziamento Poi si lavora Il piano sostenibile Piste ciclabili In quattro anelli Riorganizzazione affidata A Sintagma Per favorire Spostamenti a piedi E in bicicletta Andiamo a Pesaro Di nuovo Per questa notizia Che riguarda Il ritrovamento Di sepolcre Di epoca romana Forse Picena Gioielli Lungo la strada Dell'interquartiere A Muraglia Perimetrata L'area del rinvenimento Sul posto Anche i tecnici Della soprintendenza Mentre sulla pagina Di Urbino A Urbino cambiano un po' E per gli urbinati Bisognerà cambiare un po' Come dire Cambieranno Le sedi Dove si va a votare E quindi Addio alle scuole chiuse Questa è la cosa più importante Le abitudini Verranno modificate Soprattutto per gli urbinati Le sezioni Per andare a votare Prossimamente Non saranno più Nelle scuole Ma negli spogliatoi Sedi designate Però al vaglio Della commissione Spiccono Alcune aree Delle palestre Dunque addio Alle sospensioni scolastiche Per consentire Alle persone Di andare a votare A fine febbraio scorso Arrivò ai sindaci Dei comuni Della provincia Una circolare Sull'individuazione Di immobili Alternativi Gli edifici scolastici Da destinare A seggi elettorali E quindi adesso Si aspetta Il nulla a osta E questo credo Che sia già Una buona cosa Che andrebbe fatta Insomma Andrebbe fatta Un po' Dappertutto Marche multiservizi Regale piante E progetta Ma io in realtà Avevo segnato Questa pagina Ecco sì Per questo Per questa notizia Qua sotto Che riguarda La morte Del professor Dino Remedia Insegnante storico Della cittadina Di Piobbico Il ricordo Di Giorgio Mocchi Dice una persona Che amava visceralmente Il paese Morto a Piobbico All'età di 78 anni Il professor Dino Remedia Per tantissimi anni Insegnante di scienze Nelle scuole superiori Di numerosi Plessi scolastici Dell'entroterra E quindi Il giornale Questa mattina Lo ricorda A Senigallia Invece Corriere Adriatico Riapre Anicò Ma fa troppo freddo Lo chef Cedroni Dice per ora Niente cena Oggi il locale Riapre dopo il covid Il pluristellato Chef dice Andiamo a casa Prima Inutile Aspettare Le 22 E poi Tra le tante cose Viste Segnalate C'è anche Questo cartello Al rimante Di Senigallia Il ristorante Deva arrendersi Alle condizioni Del tempo Al meteo Non ho la veranda Quindi chiudo Per pioggia Chiediamo di spostare Dentro Almeno I prenotati Poi a dire il vero Insomma Non tutti i ristoranti Hanno Dato la possibilità Di mangiare fuori Qualcuno Si è accomodato dentro Perché ovviamente Quando piove Quando è freddo E uno deve mangiare Perché sta lavorando Mantenendo le distanze Tenendo aperte le finestre Facendo insomma Garantendo la sicurezza Ecco Qualcuno ha mangiato Anche dentro Chiaramente Trova 800 euro E li consegna Il plauso del sindaco Il primo cittadino Esempio che fa un'ora La nostra giovane città E soldi riportati Al proprietario Si tratta di Marco Lapi Un cittadino Che risiede appunto A Vallefoglia Che ieri mattina È stato premiato Con questa targa Con questa pergamena Dal sindaco Palmiro Ucchieli Che ha voluto consegnare Questo attestato Di riconoscimento Per dirgli che cosa Grazie Per dirgli grazie Per aver istituito Questo portafoglio Contenente Mica 50 euro 800 euro Poteva tenerseli per sé Sì Invece che cosa ha fatto Quello che dovremmo fare tutti Consegnarlo Al legittimo proprietario E con questo Chiudiamo qui La nostra rassegna stampa Vi ricordo Che questa sera Ci sarà la prima puntata Della nuova stagione Di Fuori Tutti Artisti delle Marche In Rete Per Resistere E ci sarà Matthew Lee Che io non conoscevo Invece sono andato a vedere È un artista bravissimo Fa della musica Molto bella Insieme a lui ci saranno altri artisti Altri musicisti Della nostra regione Della regione Marche E allora L'appuntamento è questa sera Dopo il telegiornale Delle 20 e 30 Per chi ci segue in diretta Invece tra poco Alle 7 e 30 Dalla Santa Casa di Loreto C'è la messa del giorno Grazie per averci seguito Buona giornata a tutti Grazie a tutti A presto a tutti A presto a tutti Grazie a tutti.